Sì, non ci credo, guardate, ho raggiunto la porta a 0-0, non l'ho fatto nel video perché mi ha cresciuto un po' e non potevo registrare. Ho aperto con i due lockpick e la chiave a testo, ora possiamo andare nel nuovo sacchetto. Continuing Run, Continuing Run. Allora, per chi non l'ha vista la parte 1, se la va a rivedere nel video precedente. Guardate qua, beh, sono ritornato a registrare ragazzi, una settimana, vabbè, loading, ho paura. Vabbè, già lo so, una volta ci sono entrati un secondo. Cosa sono i due lockpick? Voglio abbassare il volume, ho paura. Questa è già l'ho vista, si può ricaricare facendo così. Però dobbiamo stare in silenziosissimi perché i mostri sono abbassati dal suono. Sembra un gameplay noioso. Vabbè, non c'è bisogno della flash, esatto. Vabbè, non c'è bisogno della flash, esatto. E scappiamo dai rooms, ma ci vuole tanta strada e devo scontrare pure a 60, a 100, a 90 e non c'entro niente. Tanto ho riconosciuto inutile, è inutile te lo dico. Ho comprato pure il crucifisso e l'ho usato a controllare la scena morta. Io sono un suo due, no. Nuovi obiettivi. Oh no! A 60? Alcini in me. Paola, 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 paola. Non so se questo video raggiungerà molti mi piace, ma vi consiglio di scrivervi al canale per avere delle esperienze simili e conoscere anche i miei miei secret, se ci sono, di Roblox d'Orsi. Ragazzi a 60! Aiuto! Ma nella porta è 59, a 60! Ma da come si nota? L'ave start è sempre di buio. Non voglio fare questa flash, il like, perché fa l'umore. Poi non sento, a 120, a 60. Di nuovo! No, ho solo l'arma. Ok, allora sono super emozionato. Qua non posso prendere la batteria perché ho la torcia tutta carica. E allora... E allora... Ehm... Allora... Il video terminerà quando sarò ucciso da uno dei mostri. Dei tre mostri. Avete paura come me? Ho solo io questa paura come me, da questo, perché cammì. Non si fanno più buie. Mamone! Io ho paura che mi spunti da un momento l'altro quel passo. Oh no! Oh no! No 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 no! L'abbiamo evitato! L'abbiamo evitato! Sapere verile a 90 perché... Quello ha scoppiato il scoppiato. E io ho paura! A 90 ragazzi! Speriamo che non mi punta adesso perché ti spacco la faccia. Speriamo che non mi punta adesso perché ti spacco la faccia. Qua 60. La 60. Qua 60. Qua 60. Ma stai fanno più buia del solito. Moni? C'è una batteria qua. Oddio guarda che scrafica! Pazzuta! Moniti! Moni! A 90 ti prego no! Ehm... Se è a 120 ora! Sta per arrivare! Perché sono nascosto? Mi sa la mia tozza. Ultra... System... No! 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 Cazzilli! Cazzurdo! A 102 no! Sto speccando tutta questa torcia! No! Buona! Vedete le batterie! Come vuole le batterie?! cavolo che mi fai? oh cavolo ancora una volta speriamo che non mi capi perchè oh no questo è vero questo è vero questo è vero si è spenta si è spenta si è spenta la flashlight ma mi stanno finendo a battere con me su questo però che cavolo che lì è niente non 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 aiuto basta questa cosa voglio questa ancora nessuna traccia di batterie signori 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 ok siamo ad a 121 oh una batteria ha fin solder non ragazzi ho paura ho paura ti prego falso l'arma No! 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 Dead again! Sì, guarda, vai a cacare! Questa è a sessanta di nuovo! Sì, lo so! Vai a cacare! Non c'erano armadi! Ma non vi ho fatto vedere nemmeno l'abilità di A90 e A120! Ma che cavolo! Vedremo nel prossimo video e farò delle reaction su Youtube! Ciao!